sentiamo eh l'onorevole Ginople del partito democratico eh? Aspetta aspetta io lo do subito non vogliamo eh se noi come la sentiamo? Shhh! Prego. Vediamo guardate un po'? Funziona? Eh? Dica. No perché si vedeva mentre parlava Lorenzin ci aveva. Abbiamo idee diverse. Eh. Guardi innanzitutto vorrei ringraziarvi per aver organizzato eh organizzato questa giornata insomma in cui avete visto tutti coloro che hanno preso la parola con sfaccettature diverse ma vi hanno dato tutti ragione di fatto come se venissimo da chissà quale mondo. Io credo che siamo in un momento preelettorale la ragione e la situazione che vive il nostro paese credo che ci debbano consigliare un po' di sobrietà e di serietà nel prendere in considerazione alcune questioni come la vostra voglio dire. Io non sono per carattere per estrazione sociale un difensore del presidente Monti ma mi sembra ingiusto se se mi per saluto l'onorevole Lorenzin che va via che ringrazio ovviamente. Grazie. Buon lavoro. Grazie. è così. Ma per estrazione sociale sono quanto più lontano io possa essere dal presidente Monti. Però mi sembra ingiusto non porsi la domanda. È venuto per caso qualcuno l'ha chiamato. L'abbiamo chiamato perché questo paese qualcuno diceva stava bruciando la casa. Siamo in tema. La casa stiamo bruciando. Stava bruciando. Il senatore ha svolto il ruolo di pompiere usando l'idrante qualche volta in maniera sbagliata. Non colpendo sempre le fiamme. Qualche volta anche spettatore dell'incendio. però non è possibile se non tornare alle ragioni di chi è stato ad ingegnare questo paese. È stata la politica complessiva in adeguata degli ultimi tempi? Sì. Qualcuno ha assunto in questi ultimi tempi qualche responsabilità in più rispetto a qualche di un altro. E quindi oggi non è possibile sentire che ognuno prende impegno per venire incontro alle vostre ragioni per il tempo che stiamo vivendo dimenticando che queste ragioni potevano essere soddisfatte nel passato. Io ringrazio il presidente Righi di questa opportunità. Quella di poter dialogare in piena in piena serenità. Mi permette di dire io vi voglio ringraziare perché ho sentito oggi una parte dell'Italia che con passione, con convinzione vuole essere attore del proprio destino. Siete voi che fate questo lavoro e non ve lo regale nessuno, non ve l'ha permesso nessuno, non siete costretti a raccomandarvi per avere il posto. Voi volete avere il rispetto per svolgere il proprio lavoro. E allora c'è una promessa da fare questa sera, presidente. Rifacciamo questa serata subito dopo la tornata elettorale. anche perché vorrei gli attori, vorrei gli stessi attori, vorrei gli stessi attori e qualcuno con la responsabilità dell'indicazione di un risultato elettorale. Credo che sarebbe più proficuo, qualcuno potrebbe prendere l'impegno da tradurre in atti legislativi e in attenzioni. Perché il vostro mondo, come altre parti del nostro paese, ha bisogno di attenzioni, di amore e di consapevolezza delle difficoltà. Questo è possibile farlo guardandoci un po' negli occhi. Perché se mi dicete quali di questi undici punti io, come devo dire, condivido e vi dico tutti. È impossibile non condivido. Ce n'è uno che mi piace in maniera particolare, quello del bene alla bellezza del nostro paese, quello di far sì che ci sia il recupero edilizio, Presidente. Quest'opportunità grandissima che non si consumi, non si continua a consumare il nostro territorio, assolutamente. E poi la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Come? Facendo sì però che non avvenga come è successo per episodi, poche volte, nel passato, ma che sono stati affidati queste dismissioni a dei cialtroni. Non hanno procurato nessuna entrata alle casse dello Stato. C'è questo da fare, signora, mi permetta. Allora guardiamoci con serietà. Diciamo che voi rappresentate, perché per le ragioni che dicevo prima, una parte importante con cui confrontarsi. Facciamo, diamoci questo impegno. Speriamo che dopo la tornata elettorale possiamo tutti insieme ridare un po' di sorriso, di speranza, l'opportunità del nostro Paese. Grazie. Grazie. Appuntamento. Allora diciamo a marzo. Forse possiamo vedere una scheda che riguarda il confronto della tassazione tra Italia e altri Paesi partendo dallo studio di confedilizia. Lo vediamo? La tabella permette di constatare come in Italia la pressione dell'imposta personale sul reddito per una persona singola, senza carichi di famiglia, che svolge un lavoro dipendente, è per tutti i livelli di reddito maggiore che in Francia e in Germania. Si può constatare come il divario è molto elevato fino all'imponibile di 70-80 mila euro. Questo è determinato dal fatto che la Francia, per i carichi di famiglia, adotta il quoziente familiare, mentre la Germania prevede l'opzione della tassazione del cumulo dei redditi dei coniugi, con il raddoppio del reddito tassabile e con una riduzione della liquota applicata. La tassazione in Italia, rispetto agli altri Paesi, penalizza soprattutto i redditi medio-bassi. È tenendo presente la grande differenza del carico fiscale che possono avere le famiglie francesi rispetto alle nostre, il parametro in base al quale valutare la tassazione della proprietà immobiliare in Francia, che è su base catastale. Il catasto, nella concezione francese, non si basa su una concezione patrimoniale, come si vorrebbe fare in Italia, ma sulla concezione reddituale in base al cosiddetto valore locativo, ossia il reddito da locazione. La tassazione degli immobili in Germania ha un'importanza molto minore che in Francia e anche rispetto all'Italia. Questo in quanto, da sempre, la politica del governo tedesco è di non imporre tasse elevate sulla piccola proprietà. Occorre evidenziare che il confronto tra le tassazioni nei vari Paesi va fatto anche in riferimento alla pressione di tutte le imposte dirette, non solo quelle sui patrimoni, ma anche quelle progressive sul reddito. A tale riguardo si rileva che la progressività dell'imposta personale negli altri Paesi avanzati mediamente è molto più moderata che in Italia. In Francia avviene in virtù dell'adozione del quoziente familiare, in Germania mediante aliquote che hanno una progressività più contenuta e con l'opzione della tassazione congiunta del reddito di un coniuge con quello dell'altro coniuge e la divisione per due. Nel Regno Unito la moderazione della progressività dell'imposta sul reddito personale avviene per effetto dell'adozione di due sole aliquote. La tabella dimostra come la pressione delle imposte dirette in Italia è maggiore rispetto al 2009 sia nel confronto con ciascuno di questi Paesi sia della loro media. È difficile comparare le tasse sulla proprietà immobiliare nei diversi Stati perché hanno natura e scopi diversi. Per esempio in Francia il dato della pressione fiscale sulla proprietà degli immobili include anche pubbliche entrate come quella sui rifiuti solidi urbani e il canone tv che non fanno propriamente parte delle imposte essendo tasse o prezzi per servizi resi. Inoltre le imposte immobiliari francesi e inglesi sono detraibili dall'imposta personale sul reddito, ciò che non accade in Italia. Nei Paesi anglosassoni in cui l'imposta locale sulla proprietà immobiliare è particolarmente elevata non esistono le tasse per i servizi municipali che riguardano gli immobili, la tassa sui rifiuti, sugli spazi pubblici, sulle affissioni e così via. Per molti Stati la statistica della pressione diretta sugli immobili è poi gonfiata dal fatto che non si distingue la parte del tributo patrimoniale che cade sugli immobili e quella che cade su ciò che vi è contenuto come quadri e arredi e mobili di antiquariato o di altro particolare pregio e in altri o negli stessi dal fatto che vi è un unico tributo sugli immobili e sui capitali immobiliari. A parte ciò il nostro Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto una comparazione fra la situazione italiana nella tassazione patrimoniale immobiliare prima del decreto Monti Salva Italia per l'Ocse e per i Paesi dell'Ocse ha messo fra le imposte dirette patrimoniali anche tributi sulle famiglie che non riguardano la tassazione patrimoniale dell'immobile come tale ma fenomeni eterogenei. A questo punto per l'Italia occorrerebbe includere anche la Tarsu e altre tassazioni patrimoniali eterogenee. La tabella permette di considerare come si presentano le imposte dirette sul reddito e sulle proprietà immobiliari in Italia, Francia e Germania. Il contribuente medio in Francia dopo aver pagato l'imposta personale sul reddito ha ancora una rilevante disponibilità di mezzi economici per pagare il carico fiscale patrimoniale sugli immobili. Per quel che riguarda la Germania le aliquote sono generalmente molto moderate e favoriscono le famiglie prevedendo diverse opzioni di detrazione al loro favore. La diversificazione delle imposte dirette sul reddito e sugli immobili e la loro incidenza sul reddito disponibile delle famiglie comporta una diversa giustificazione per la tassazione patrimoniale in Francia rispetto alla Germania e soprattutto all'Italia. Inoltre il reddito degli immobili direttamente goduti dai proprietari diverso dalla prima casa in Italia è sottoposto alla tassazione personale progressiva sul reddito mentre è fuori campo rispetto ad essa in Francia e in Germania. Va anche aggiunto che sia in Italia che in Francia che in Germania il reddito della prima casa non è tassato ma mentre in Francia e in Germania il reddito degli immobili prima casa goduti dai proprietari non fa parte della base imponibile in quanto è fuori campo rispetto alla tassabilità. In Italia invece esso fa parte della base imponibile ai fini del calcolo della liquota progressiva sui restanti redditi perché il reddito figurativo degli immobili è beneficiario solo di specifiche esenzioni. In Francia vi è una tassazione patrimoniale particolare degli immobili non locati non utilizzati dai proprietari e questo si spiega considerando che il reddito presunto in natura di questi immobili in Francia come in Germania è esonerato dall'imposta sul reddito mentre è tassato come tributo patrimoniale mediante la capitalizzazione della rendita teorica. In Italia le unità immobiliari non locate diverse dalle prime case sono circa 15 milioni contro 19 milioni di prime case sicché la tassazione di questi redditi in natura nell'imposta personale sul reddito ha una consistenza rilevante. Allora, verità va di essere visto perché insomma la racconta lunga sulle differenze tra l'Italia e gli altri paesi.